Ehi, tu! Vieni qui. Ti vuoi decidere? Che fai? Li ferma come una scema. Prendi le mie valigie e portale subito in casa. Ma che stupida sei. Rimetti subito tutto a posto. Sentitelo, voi mantenetelo il diritto di parlare così. Io che colpo ho se stai bisagio se sono spalangate? Come osi rispondere così? Tu non sai chi sono io. No, ma già lo sapeva da me. E poi voi non potete parlare così. Dirò subito a mia madre di sbatterti fuori.